e dopo gara tra Real Podegora e Parrocchia San Giuseppe un passivo piuttosto pesante insieme al portiere Daniele Varis comunque hai tolto tutto l'impossibile proprio a questa squadra che quest'oggi ti sei trovata di fronte. Allora eh grazie per questa e per questo complimento oddio è un primo tempo un po' più combattuto ci siamo difesi bene abbiamo abbiamo corso più che altro bene e io oggi ero in giornata fortunatamente e loro nel secondo tempo forse è mancata un po' più di tonicità sì sì noi abbiamo questo questo grande difetto che nel secondo tempo tendiamo a calare molto soprattutto fisicamente e comunque sia io ho fatto quello che potevo mi sono impegnato il più possibile è stata una bella partita. Valerio oggi abbiamo affrontato l'ultima in classifica però nella prima parte qualcosa non stava andando per il verso giusto. Sì abbiamo avuto qualche disattenzione difensiva nella prima parte e non ci trovavamo bene dietro con il diciamo portiere che ci chiamava e il secondo tempo siamo riusciti a trovare un po' più di equilibrio e davanti abbiamo 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 diciamo approfittato delle occasioni che ci sono capitate rispetto al primo tempo. Diciamo la verità comunque diciamola anche tutta che voi avete provato da tutte le posizioni avete trovato uno straordinario portiere avversario che ti ha tolto tutto. Sì infatti gli devo fare veramente complimenti un bravissimo portiere perché nel primo tempo abbiamo fatto due tre parate veramente strepitose e il secondo tempo siamo riusciti finalmente a penetrarlo. Complimenti veramente al portiere. C'era la voglia di tornare a vincere ma in maniera anche decisa a far vedere che comunque non siete stata una squadra che avrebbe meritato comunque di uscire da questi playoff. La possibilità l'avete dimostrato più volte oggi ancora di più. Sì più che mai noi ci crediamo fino alla fine le ultime partite che partire tra un po' di sfortuna e noi che siamo calati fisicamente i risultati non sono inutili adesso siamo cresciuti cioè siamo ritornati come le ultime partite anche contro l'Ele un pareggio ma abbiamo giocato come sappiamo giocare quindi noi fino alla fine proveremo a vincere tutte insomma. Ecco una vittoria di squadra una vittoria della società ma una dedica particolare quest'oggi proprio al padron vostro carissimo amico perché quest'oggi. Sì che vero un'etica speciale al presidente che oggi compi gli anni e il gol diciamo tutti i gol abbiamo dedicati anche a lui infatti nei sparitori gliel'abbiamo detto.